Tutto pronto? Partiti! In avvio riscono addirittura al contatto Relko Iberica e Relko India. Dal gruppo, nelle prime fasi, cercano di avvantaggiarsi Ridge Racer che avanza per corsie interne insieme alla stessa Relko India che si presenta, poi ancora nelle prime posizioni avanzate da parte di Relko Iberica nonostante abbiano nelle prime fasi avuto un problema. A largo di tutto anche Poggi e Santi e poi cercano di proporsi anche pop star italiani in seconda linea, anche inevitabile love. A largo di tutti invece a priori Philippa e 400 Ridge Racer in vantaggio sotto l'attacco interno di Relko India. I due allungano rispetto a Poggi e Santi che prova a largo di tutti, gli altri più dietro. Ridge Racer all'ultimo farlo che è sempre davanti su Relko India e Poggi e Santi. Ridge Racer che allunga su Relko India e Poggi e Santi. Ridge Racer ha tutto sotto controllo e nel tratto finale viene a concludere facile lasciando a secondo Relko India e poi al terzo Poggi e Santi, gli altri più dietro. Nessuna sorpresa vince il favorito Ridge Racer, vince Salvatore Sulas per la nuova sbarra ai colori, il team per Rino al training. Grazie.